Oh Jesse! Come siamo? Mi conto una passata, l'altro giorno devo andare al flexus mi devo incontrare con mio compagno e ci disse me lo vediamo fuori mi esce fuori a un certo punto non ho visto sento che mi chiamavano però non ho visto a un certo punto si è vicino al piccirino ma ora ho chiamato e mi fa e mi dice ma che cazzo è questo nano? e mi dice edo mi dice io lo so, tu non edo e mi dice si, vabbè non ci scassare il cazzo edo che fa? si stava all'aria alla tipo vegeta ma guarda un'altra faccia e poi da un'altra uscita prima non c'era un flexus minchia dure e chi non voleva non fare un trance riappare un piccirino una sigaretta è nata a bocca dopo una pare di un pulato e zecchiamo entro vi accontrò due ragazze e tu nero ci nasciò a ciolla queste ragazze questa è una di queste qua gli fa mii ma dove i minchia devi andare con tutta questa ciolla restò sconvolta vi chiamavano sulle braccia e si buttò la casa poi però non so come andò a finire onestamente ancora c'è due mannale la morale della favola sapete qual è? se esci con tu nero e non è la minchia grossa come la sua resti la con un baccalà invece ce l'hai? ti mogliono? e ti putto una casa ci vediamo alla prossima puntata ciao Antunied bene dopo questa libera interpretazione questa interpretazione che ovviamente non è riuscita al meglio salve ragazzi noi siamo due terzi dei pensieri sicuri il terzo è lì e abbiamo fatto questa parodia per ringraziare Antunieddu perchè ci ha dato una mano a diventare partner di Youtube e ovviamente non vogliamo prenderlo per il culo in nessuna maniera ci siamo fatti un sacco di risate a imitarlo però non si può imitare ragazzi smettetela di insultarlo perchè alla fine lo dovete capire ha creato un mito nient'altro non è così veramente dico non è che se lo incontravi per strada sei caduto nella volgarità prima facevi ridere basta non ve li volete vedere non ve li vedete i suoi video e qui ci fatti un labbro e chi ci scioccazza e pure a sua nonna e se ci scioccazza a sua nonna su cazzi per tutti soprattutto per sua nonna ciao bene dopo questa possiamo anche chiudere chiudere il canale chiudere il canale